È stata una stagione molto intensa, effettivamente con due doppie decime edizioni a Sirio del Castello e The Magic House, che sono andati molto molto bene, il pubblico ha gradito e apprezzato questa doppia decima edizione di due eventi più identificativi di Gardara. Non poter non chiudere in bellezza, ma che dico chiudere, anzi continuare. Anche oggi c'è parecchia affluenza, questa è la seconda giornata di Wine Passion e devo fare i complimenti, quindi oltre a Gardara Nova e al suo personale, anche al connubio di vino a Mirko e in company, perché hanno fatto davvero una bella organizzazione, riuscendo a superare anche quella dell'anno scorso. E poi c'è un grande ritorno alla musica live, che a causa Covid per un paio di edizioni avevamo saltato e torna quest'anno quindi con tutt'altra atmosfera, ovviamente, musica e jazz in due punti diversi del borgo che accompagnano bollicine, vino rosso e vini bianchi e birre anche. La novità di quest'anno è quella di aver suddiviso in sei aree tutto il borgo. Le sei aree sono contraddistinte da un colore e sono contraddistinte anche da una parte della vite. Sono rappresentate e viene anche descritta quella che è la parte della vita che rappresenta determinati punti, sostanzialmente. Quanti produttori possiamo incontrare in questa seconda edizione di Gardara Wine Passion? In questa seconda edizione abbiamo 25 produttori, provenienti dalla nostra provincia, provenienti da una buona parte della Romagna e in tutte le marche. Quali sono i principali vitigni e di conseguenza vini che possiamo bere questa sera? Sono i principali vitigni e i principali vini che vengono prodotti specialmente nelle nostre aree. Quindi possiamo trovare dal Biancame, dal Verdicchio, per quanto riguarda i rossi, dal San Giovese, il Monte Pulciano. C'è il Verdicchio rappresentato anche dalla zona di Matelica, ma ci sono anche i vari internazionali. I cucar vengono coltivati in maniera importante. Quindi c'è una notevole varietà di vitigni e di conseguenza una notevole varietà di vini da provare. Anche cose nuove e aggiungiamo anche aziende giovani nuove che sono da poco arrivate nel nostro mercato di vini provinciali. Quindi tante curiosità.